A questo piatto ci avveniamo un bellissimo bicchiere di vino bianco, un ortugo frizzandino, guardate che bellezza, adesso faremo la prova dell'assaggio anche del vino, un profumo, un profumo bellissimo, bellissimo ragazzi, un profumo indescrivibile. Salute! Bello fresco, si scioglie, ecco come resta il palato, il palato resta bello fresco, un po' fragrante, c'è quei gusti fruttuosi bellissimi, guardate, c'è tanta roba in bocca ragazzi, adesso facciamo la prova dell'assaggio della pasta e ci vediamo dopo. Signori, stasera risotto, risotto e ci andiamo ad aggiungere questo bellissimo vino, ragazzi, facciamo questa prova dell'assaggio, come com'è? Io vorrei capire cosa ci hanno messo a questo, non l'ho fatto io eh, attenzione eh. Salute! Gli internazionale, perciò, cosa c'è qua? Funghi? Puccine. Funghi poccine e poi che cosa ci abbiamo messo? Mangiale. Mangiale. E zucchine. Come com'è? Guarda qua. Grazie Jessica, grazie, è un piatto veramente straordinario. Ora ci mettiamo anche un po' di vino, me lo dai un bicchiere perché questo qua l'abbiamo usato prima con il formaggio, per favore, ecco anche quello ragazzi, questo qua, stasera guarda che bel vino, guarda, guarda, un vino rosso antico, rosso rubino, qui c'è il profumo del ciliegio, della marena e delle terre piacentine, alla saluta. Bellissimo ragazzi, è veramente bellissimo, si resta la bocca bellissima, fruttuosa, bella, bella, il vino si deve calare tutta una volta, non deve stare a sciacquare sulla bocca, tutta una volta, deve salire nel cervello e il vino si deve sentire. Buonasera a tutti, ciao ragazze. Ciao ragazzi.